Un problema sulla condotta idrica tiene spenta la cascata monumentale di Santa Maria di Leuca, che segna la fine dell'acquedotto bugliese. Per salvaguardare la flora della pineta della frazione di Castrignano del Capo, si è reso necessario un periodo di sosta, almeno fino a quando non verrà sistemata la condotta. Dal 1939, anno della sua inaugurazione, la cascata periodicamente viene aperta anche per esigenze legate alla pressione dell'acqua. Negli anni però il flusso è diminuito notevolmente, passando da una durata di 20 minuti a 5 minuti, proprio a causa delle perdite della condotta. Per sistemarla del tutto ci vogliono 4 milioni di euro, cifre impossibili per un comune, che ora vorrebbe tentare di mettere quantomeno una toppa. La cascata quest'anno purtroppo ha subito dei problemi, sia per quanto riguarda l'illuminazione sia per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua, perché ci sono delle perdite lungo la condotta principale e questa tutta l'acqua si riversa a livello della pineta e questo ha determinato un essiccamento di alcuni alberi. Per quanto riguarda l'illuminazione ci sono state dei guasti per l'impianto e non è un guasto da poco perché si è fatto un preventivo di circa 40-50 mila euro e stiamo provvedendo a fare un bando e a dare l'incarico a un tecnico per poter quanto prima risolvere il problema. La cascata insieme al faro, insieme alla basilica rappresenta il biglietto da visita del nostro comune, sono gli attrattori di questa comunità.